salve ragazzi ben ritrovati oggi parliamo di game awards nei prossimi video parlerò anche dei tornei che sono iniziati su spark in zero magari faremo qualche analisi delle finali anche se mi sono reso conto che le finali durano veramente tanto quindi un set di spark in zero è davvero lungo perché le partite vanno quasi sempre al time over ma poi affronteremo questo argomento in una sede separata parliamo di game awards parliamo in particolare della categoria best fighting game è se spark in zero merita quest'anno di vincere il titolo di miglior picchiaduro passiamo in rassegna quelli che sono i titoli e vediamo un po se condivido questa scelta di titoli o si poteva fare di più marvel versus cap con fighting collection gran blue fantasy versus rising ovviamente dragon ball spark in zero poi abbiamo multi versus e poi abbiamo tekken 8 quindi questi sono i cinque candidati allora partiamo dal presupposto che non sono assolutamente contento di questa selezione perché hanno dovuto operare delle grosse forzature e hanno lasciato fuori titoli che secondo me meritavano assolutamente di esserci e sarebbero stati anche cronologicamente sensati i due grandi esclusi da questa categoria sono ovviamente unib under night in birth che è stato credo rilasciato intorno a gennaio purtroppo nessuno se ne è accorto perché è stato rilasciato assieme a tekken 8 che ovviamente lo ha fagocitato ed era un gioco già di nicchia di suo quindi unib meritava secondo me di essere candidato perché comunque rappresenta una nicchia importante dei fighting game ed è un gioco estremamente tecnico che meritava almeno una nomination il secondo grande escluso e non ho capito sinceramente il perché è rivals of ether 2 che è un gioco smash like che è stato pubblicato da degli appassionati di smash quindi è molto votato al competitivo molto tecnico e onestamente lo ritengo un platform fighter migliore di multiversus ma probabilmente perché è uscito troppo di recente non è riuscito a entrare nei nominati e questo mi dispiace molto questi due titoli secondo me meritavano di esserci più di multiversus che ha vinto il fighting game of the hero e soprattutto non è un titolo nuovo non è un titolo fresco anche se ha avuto un rilancio però a quanto pare gioffone ha una particolare predilezione per warner e per multiversus quindi ce lo troviamo di nuovo candidato e non condivido ancora una volta marvel collection come candidato perché si è una collection però non è un picchiaduro nuovo mancassero i picchiaduro come già successo l'anno scorso avrebbe anche senso ma i picchiaduro quest'anno sono usciti c'era rival sovifer e c'era unib quindi avrebbero potuto mettere quei due titoli piuttosto che ricandidare multiversus e ricicciare fuori una collection di giochi vecchi di vent'anni o più addirittura forse più di vent'anni quindi questo è il mio parere sui candidati però ovviamente passiamo al nocciolo della questione ovvero se spark in zero merita di vincere il game of the year quest'anno il fighting game of the year non so perché dico sempre game of the year però va bene così il fighting game of the year è perché dovrebbe o non dovrebbe vincere ovviamente il mio voto se dovessi essere nella commissione giudicante andrebbe a grand blue fantasy versus rising perché è un gioco su cui tutti hanno sputato mi sono arrabbiato tantissimo ai miei spettatori lo sanno perché mi piacerebbe che chi mi segue seguisse una logica io non voglio che la gente mi segua a prescindere però mi piacerebbe che la gente seguisse il mio ragionamento e se ha una logica condividesse con me molta gente ha condiviso questa analisi con me però il problema è che tutti hanno droppato il gioco lo stesso grand blue fantasy versus rising secondo me è un gioco della madonna merita di vincere il picchiaduro dell'anno per una serie di motivazioni al cross play al rollback a una grafica fantastica l'art direction delle super e spettacolare a una colonna sonora della madonna il gameplay system è bellissimo secondo me adatto ai neofiti non troppo complesso ma neanche troppo banale a un cast di personaggi enorme ripeto la versione free to play aiuta tantissimo perché ha una rotazione abbastanza onesta cioè tu puoi scaricare il gioco gratuitamente avere una rotazione di personaggi puoi farci le ranked puoi vedere praticamente tutto del gioco e se ti piace acquistarlo e secondo me non costa neanche tanto adesso perché è passato un po di tempo quindi secondo me per modo in cui è stato distribuito per onestà diciamo degli sviluppatori a livello di marketing a livello di come lo stanno pubblicizzando e come lo hanno venduto per grandezza del roster per la cura che c'è merita assolutamente di essere il picchiaduro dell'anno anche sopra teccher probabilmente non vincerà e probabilmente la corsa sarà a due tra teccherotto e spark in zero perché siamo realisti la gente ragione in questa maniera io spero un giorno di diventare un influencer di livello per poter orientare le coscienze verso quella che io ritengo la giustizia perché mi piace dare allo sviluppatore quello che merita se fa veramente un bel prodotto anche se non si tratta di qualcosa di mainstream cioè andare a giudicare il titolo per quello che è piuttosto che per il nome che ha perché in europa ma anche nel mondo se non ti chiami street fighter o non ti chiami teccher o a questo punto non ti chiami dragon ball non hai la possibilità di essere premiato e a me questo dispiace molto perché bisognerebbe valutare l'impatto che ha lo sviluppatore piuttosto che il nome del titolo cavolo almeno nel mondo dei videogame cerchiamo di non andare in raccomandazioni però va bene così insomma parliamo quindi di spark in zero e vediamo un po allora secondo me spark in zero ve la dico in breve non merita di vincere il picchiaduro dell'anno perché ci sono dei prodotti che hanno fatto molto meglio dal punto di vista della cura del dettaglio nel appunto a livello di online a livello di tante cose spark in zero è un prodotto che io apprezzo purtroppo c'è questa wave che molti content creator stanno cavalcando di denigrare il prodotto molti youtuber che magari neanche trattano picchiaduro e dicono spark in zero perso il 90 per cento degli utenti quindi fa schifo eccetera eccetera magari manco adducendo delle motivazioni io ovviamente non entrerò in polemica con questa gente perché non ho interessi a farlo ma credo che si stia cavalcando un'onda per avere delle visualizzazioni senza analizzare il fenomeno per quello che io reputo spark in zero un gioco molto divertente un gioco che ha tanto potenziale ed un gioco che verrà appacciato lo hanno detto in una dichiarazione degli sviluppatori nel corso dei mesi e potrebbe diventare un titolo abbastanza diverso da quello che adesso e io sono fiducioso per la celerità con cui hanno nerfato giro buy e per la celerità con cui hanno nerfato hanno distrutto il bug del cambio che a me dava fastidio da morire quindi sono fiducioso ovviamente ripeto la gente che dice spark in zero non non va bene si devono sbrigare eccetera eccetera probabilmente non conosce i cicli produttivi delle patch non sa che servono approvazioni passaggi vari non è che si può fare il patching compulsivo anche perché le patch vanno sviluppate i bug vanno studiati e vanno risolti e mettere fretta gli sviluppatori diciamo non cambierà le cose perché le tempistiche sono quelle hanno già fatto uscire diverse patch uscirà un'altra patch a dicembre più di una patch al mese secondo me non possono fare e stanno anche organizzando il torneo che appunto analizzeremo nei prossimi giorni quindi tutto bene io sono uno di quelli che difendono spark in zero nonostante sia una persona che viene dai picchiaduro più tradizionali però nonostante questo io credo che non debba vincere il picchiaduro dell'anno perché farebbe passare il messaggio sbagliato spark in zero ha dei problemi oggettivi dei problemi che sono assolutamente innegabili è come ho sempre detto fin dalla recensione il netcode è uno di questi non si può permettere da community di picchiaduro di far passare il messaggio agli sviluppatori che il netcode sia qualcosa di non indispensabile all'interno di un picchiaduro perché tutti i picchiaduro hanno il rollback adesso spark in zero non ce l'ha e non sarebbe bello se altri sviluppatori arrivassero a pensare ma se spark in zero ha venduto 3 milioni di copie in 24 ore se spark in zero ha vinto picchiaduro dell'anno vuol dire che probabilmente non dobbiamo sbatterci più di tanto mettere il rollback non dobbiamo preoccuparci più di tanto di creare un'esperienza online di livello che non laghi che non abbia input lag e quindi possiamo farla passare in secondo ordine non è così perché sicuramente tutti avrete notato che l'online di spark in zero non è performante e ve lo dico le cose andranno peggio andando avanti perché proprio per questa ondata di malcontento che sta investendo tutta la community italiana di spark in zero e sta diventando una gigantesca eco chamber in cui tutti parlano male del gioco quelli che lo vogliono apprezzare si sentono quasi in difetto probabilmente l'italia mollerà il gioco prima o poi ve lo dico per il motivo sbagliato io spero che non accada però mi trovo a fare previsioni basate sulla realtà e di conseguenza quelli che vogliono rimanere risulteranno ulteriormente scoraggiati dal fatto che non potranno più selezionare stessa lingua non potranno più giocare tra italiani e saranno costretti a giocare con gente in inghilterna in francia in norvegia con un ping più alto andando ancora di più a devastare un online che già non funziona quindi l'unica cosa che si può fare l'unico modo in cui si può tenere in vita spark in zero è continuare a giocarci noi diciamo tra italiani perché se se ne vanno gli italiani se ne vanno anche le ultime possibilità di avere un net play non dico decente ma almeno giocabile questa è la situazione quindi diciamo che la godibilità dell'ecosistema di spark in zero al momento sta nelle nostre mani è giusto che sia così no perché se l'online funzionasse bene se l'online avesse il rollback almeno un rollback ibrido si potrebbe giocare anche con persone all'estero quindi ce ne fregherebbe un po meno perché se il nostro interesse è giocare giocare con un italiano come con un inglese o come con un francese non ci interessa ma al momento con questo netcode non ce lo possiamo permettere perché nel momento in cui usciamo dall'italia la lag veramente sarà all'ordine del giorno e quindi quei pochi che magari sono rimasti appassionati e vogliono continuare a giocarci si troveranno in grossa difficoltà e magari molleranno anche loro facendo crollare l'ultimo baluardo della community di spark in zero in italia e questo onestamente mi dispiacerebbe però appunto nel momento in cui svesto i panni di persona della community e divento tra virgolette critico videoludico non posso negare i difetti del titolo e quindi secondo me non merita picchiaduro dell'anno e in realtà secondo me non lo merita neanche tecnotto perché sono state fatte delle scelte abbastanza scelerate dal punto di vista del bilanciamento del modo in cui i personaggi sono stati ricreati con le meccaniche di tecnotto tutto il discorso dei personaggi che hanno stance sono stati appiattiti la diatriba riguardo i dlc riguardo il fatto che gli stage hanno provato a vendere gli stage a pagamento anche a gente che aveva comprato già il season pass e la ultimate edition quindi un po tra le polemiche un po tra il fatto che comunque il gioco ha perso tantissimi utenti e sembra che la community non sia contenta io non credo che tecnotto meriti di vincere picchiaduro dell'anno ma onestamente non lo merita neanche spark in zero detto questo probabilmente vincerà tecnotto e spero a questo punto non potendo ambire a far vincere gran blu spero che almeno possa vincere tecnotto perché non deve passare il messaggio che un online non ottimale possa essere qualcosa di tollerabile nel 2024 e nel 2025 a cui ci stiamo avvicinando di conseguenza spero in tecnotto spero non vinca spark in zero anche se voglio tanto bene a spark in zero voglio che venga sistemato ma non ho assolutamente speranze che possa arrivare un rollback nel prossimo futuro credo che il gioco finirà così a livello di online ed è giusto che il team di sviluppo venga punito per non perché sono sadico ma perché bisogna mandare secondo me il messaggio giusto come critici videoludici e nell'epoca moderna dove l'offline diciamo sia un po sfumato è importante dare agli utenti un'esperienza online di livello indipendentemente che il gioco sia un gioco per casual o un gioco per professionisti perché una cosa che ha insegnato questo spark in zero secondo me è che anche i giocatori casual che giocano per divertirsi si sentono frustrati se trovano input lag a iosa se il gioco scatta se il gioco non è ottimale quindi io direi che possiamo buttare fuori dalla finestra il concetto che i giochi fatti per divertirsi non debbano avere un buon online è una battaglia che stavo combattendo da un po di tempo alcuni mi hanno dato contro però sono contento di vedere che molti mi stanno dando ragione dopo essersi affacciati all'online di spark in zero e dopo aver sentito proprio il bisogno di un online a livello quindi questa è la mia opinione per me dovrebbe assolutamente vincere gran blu ma in mancanza di gran blu marvel è una collection e non la considero proprio multiversus non merita assolutamente il picchiaduro dell'anno anche perché è stato un flop micidiale nella sua nel suo secondo rilancio e sotto gli occhi di tutti sono uscite un sacco di news al riguardo tra tecken e spark in zero io spero di vincere spero che vinca tecken ma onestamente è un po un gioco al ribasso perché di fatto non sono soddisfatto da nessuna delle esperienze di quest'anno tranne appunto gran blu che mi ha veramente stupito questa era la mia opinione questa è la mia take realistica su quello che probabilmente succederà ai game awards fatemi sapere qual è il vostro picchiaduro dell'anno e se secondo voi spark in zero nonostante tutti i suoi difetti meriti di essere il vincitore di questa categoria alla prossima